Eh, Coco, Coco, dovevamo prendere anche noi il timore normale, così ci incontrotevamo, esatto. Noi siamo i capitani. Ma veramente, oddio che bello. Ma lol. La mamma di Ricciotte e Fladinet. La mamma di Ricciotte e Fladinet. La mamma di Ricciotte e Fladinet è una cosa che ti è rimasta e ti rimarrà in qualsiasi passato del mondo che vada. Ma ragazzi, se qualcuno non ha fatto l'antiburci è in casino stasera. Già. Questo era un fottorissimo. Nessuno ride. No, era carina. Ma quindi si sente l'audio? Sì, sì. Allora, fate un attimo silenzio. Lo sapevo, lo sapevo ragazzi. Io spero che Luciano abbia gli avvisi di TeamSpeak attivi, perché se no non funzionerà. Vabbè. Due. Uno. Beh, se no la rifacciamo, non è un problema. No, no, dai. Perché l'ago? Dove, come funzionati, la prima volta che ho su? Eh, cos'ho feintissimo, la prima verde. Che spazia sono scena. Chiuro. Smetro. Taytorsi. Ok. Allora. Funziona. Oddio. Sempre quello ritardato, porca puttana Mamma mia ragazzi, ho tutti sti topi Ma io faccio il disinfestatore del mestiere, non si può fare questa cosa Vedi fino a me, vedi fino a me Ah grazie, ma curate cristo Le botte Tadà Ma io sta benissimo in realtà Oddio, morirò Ah lagga Ah lagga tantissimo Attenzione Eh anche voi lagga Ma chi era quello lì che ha appena ucciso, Viddu? Sì Ma quello da astronauta non è Giulio? Ok, 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 ci gioca indietro Ok, ok, dragon Ok, ok, f*** io Dragon Ma io non capisco chi sono io Oddio 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 Rade, ti sentite un attimo che il mengato? Oddio Qui c'è un finocchio Qui c'è un finocchio Giù lì dentro È scoperto che si è coreante Dalle linee Negri Tanti negri Gimma Non fai uccidermi così Come va? Sì 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 Era reale Via via Maletto Avanti e prendi quelle dieci Sì Fede, ti lascio questa Dai, lascemela una Eh, che vuoi far prendere Raggo 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 ti do io? L'ambuscatone della vita No, 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 no Boo Mamina Ti stanno a dare la botta Fa' sto mozzo No No Ho bagnato No Vado Comunque non vale Mi avete un settaggio Viglio Un settaggio Viglio No, secondo me c'è capitato Che il personaggio è un gravo Vai a dire No, no, ci sei Hm? Mo voglio vedere Chi le prende più le cure Mo voglio vedere Chi le prende più le cure Eh, da un po' Nooo E' stato un attimo ragazzi 3,4,3 Conquistiamo il bush Eh, tocca a conquistare Bashi Boh, boh, boh Eh, ce l'hanno già loro, sono già 6 Ma non li possiamo mettere così vicini i fughi Perché sennò non fanno danno tra di noi Non lo dire Ma non lo fanno Non fanno danno, non lo sapevo No No se esplode uno Oddio sentire un po' della battuta da super culo per caso occhio occhio prima o poi si è ripetuto dice cosa fai si muovano no lascia mi divertere sei morta vede di ciao ah non ti ha attaccato la malattia nooo faccio pure le dita si nooo nooo no era mia la kill ragazzi team ho ucciso team ho aiutato da due team attenzione lo striccio sta 8-1 maledetto non l'ho mai usato l'ho mai usato l'ho mai usato 2 oddio spero ovviamente che facciamo tutti la stessa p no attenzione mi chiede di muovere voleva mettere un po' è morto non l'ha non l'ha raccontata oh grazie nooo non l'ho mai usato ma no mi posso fare una cosa cattiva brutta prego It's an ancient artifact, but it's still good. Ma ma chi ha la range blade? Io non ce ne so accordo ancora. Beh, ma l'hai comprata all'inizio, lo ha raccogli. No, ma l'hai shottato, porco Dio! Beh, la cosa bella è che io ho 700 di finger, vabbè. Che palle, o tornare a casa su sta valga di merda. Ma poi la cosa è che faccio solo su LOL. Aiuto! Il server quello napoletano, il server Tarot. Sì sì, non so a Napoli, non so a Napoli. No, il server è uuu, che fa cagare. No, fa cagare solo per me, cosa faccio? No, no, fa poco cagare in generale. Cosa stringe? Porco Dio, dei funghi di merda. Non siamo fatti niente contro i funghi, ci siamo inventati. Sì, questo è un oggetto fatto a me, bro, dalle. Beh, ecco. C'è un oggetto che fa? L'ho sentito, Stree. Che la staglia a posto ai funghi. Poi, regà, ho fatto una kill, regà. No, ma sotto la torre è inutile, tanto li vedo. E li schiacca, sì. Sto attorno a cercare con te da noi. No, no, non c'è un po' di qua. No! È una partita infinita! Dai, io almeno non l'ho usato. Non l'ho più usato. Ti procide a merda! No, ma hanno rimesso l'ora, qualcosa che è? Ma la società... Che stiamo chiesto? Oddio, minion! Esatto. No, amici, non possiamo... Non potete morire così, però. Allora. Oddio! 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 Ah, mori! Perché non sei morto? Perché il primo colpo l'hai tirato su Bimba. Non ne ho c'è a fare. Che sta? Minna, non fai l'hai tirato. C'è un po' di qua. Ma Minna, che stai a fare? Che stai a fare? Questo non è. E non lo so, perché con quell'Itemio ci si possono fare due cose. Tutte e due vuole fare. E dai, mi... Non del cazzo. Oh, ma che cazzo volete? Oh, ma che è pieno? Dove non sto dentro. No, dai! Non mi chiedevo gli stronti che ti mettono. Finito le cartine. Tu dicevi che ti ritraio, sì? Sì, 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 sì. No, 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 men. boy, no, 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 no. E la sua solidità mamma mia che morto brutta che ti ho fatto, Vau. Perché non riesco a scappare Sono troppa lag Cazzo di veleno Oddio Perché non vedi Perché posso è tutto Lì netto, non so, guardare l'altro lato Io l'ho usato mezza volta L'ho usata Così ti impari L'ho usato mezza volta O, gola marki Non è Non è A non è E' così Non è Ci è Dette Ma Il Di Il 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 Oh vabbè Ma mi sto sentito un attimino stuprato da dietro, capito? Ma i reti surci, ma noi di quanti cazzo so Oh no 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 Oh no 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 Ma io vado a mazzare un po' di vita E' un morto sette volte E che cazzo Oh mazza che fiocina Siamo in una gara che taglia i funghi, come funziona? Ehi 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 Oh mia Valerio Oh mia Ehi prende per le feria di el libro Ok Non è molto riettante, è tipo un altro divo Oh Beh ma è andato bene, cioè alla fine è andato meglio così perché la nostra alternativa al team era Lux Mamma mia Poi capirai, i Lux si shieldavano Quindi erano proprio il counter-teffetto Mi fregavano proprio Dei gunni Nanananana Nanananana Ma non si può uscire la scuola fuori dal ponte? Non si può fare? Oddio Oddio ma che sei mattino? Oh 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 oh, la gala è vero E guarda il nim Ragazzino Oh Tutto Matto Mamma mia, one shot Aspetta Vabbè Vabbè Sei... Sei dentro Sei dentro Sei dentro Che c'era? Che ho fatto? Che ho fatto? No Adesso No 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 Ok ragazzi Adesso sono cazzi loro Perché non dobbiamo più comprare dove... Sei bambina con l'occhio Sì, guarda lì, guarda che si atteggiò da due... Ecco, ora sai che non ci si vede in corale. Sì, guarda. Hai, guarda che ti sa che non ci sia, non c'è. Niente, un dottore, un dottore... Che non c'è un dottore... Guarda lì! No c'è un dottore... Oggi, non c'è un dottore... Non c'è un dottore... Non c'è un dottore... Qu'è... non fa' un cuore fa' un cuore manzane E dimmi non muore Che razza di gioco Che razza perché non finirà mai lo sapete vero Una donna da dire Eh capisci Beppe stai fermo lì No fermi Te lo dico Ma cazzo chi sono io Io sono morto Arrivano i riporti ragazzi Ma cazzo chi è morto Ma cazzo chi è morto Un, due, tre, four Oh Un, due, tre, four Un, due, tre, four Un, due, tre, four ucciso i comari porto giù è stato sono andato un po' troppo ma lag del cazzo che vorrei ho da paura mi vedo qua questo ho da paura no ma perché è una peccato ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo lag di merda oh che è la mia che è la mia se un punto clicco e poi mi trovo morto ti hai cliccato male eh 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 prego intiess tiri tiri cazzee aumentiamo il livello di giro no 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 saluto perché siete dei geni si girati sui bug cazzo questo è o non è a corte nè Vabbè, manco ammazzato Ravel, in sé è morto, eh, Ravel. No. È un invincibile, ma per l'icone. No. Oh, ma che è l'oggettino? Ah, che è qui, che è qui, che è qui. Ops. Oh, possiamo disegnare qualcosa di questo? Oh, dai, ciò. Oh, sei lì. Oh, sei l'oggettino. Ma l'avremo tutti, ma l'avremo tutti. Ah, non c'è. Fate andate un attimino, il cazzo. Ah, mia di merda. Ok, ho l'addenso, sì. Bravo, striccio, bravo. L'altro bomba c'è. Trova un po' da un po' di questo. Oddio. Che l'aggotrappo. Vabbè, io non gioco più. Guarda che sta malaglia a tutti. Ho troppi funghi, riasmo. Noi non parliamo appena certo. Che cazzo ti trovo con lo Sitter. Oh, che merda. Vai, proteggiamo Mary. Oh, vabbè. Eh, non è un attimo. È attimissimo, vabbè. No, ma... Dai, ma addirittura di niente mi avete attaccato. Niente fa il tifo. È veramente la possibilità di avere attaccato anche di niente. No. Dai, non morirò. Oh. Oh. Il nostro corso gratuito è un po' di più. e va così sposa loro non timo tanti non vale, spagniamolo mi posso muovere anche voi possiamo dimenticare anche voi possiamo dimenticare abbiamo 7 grandissimi e morire aia vabbè sei un po' sulla punta della cappella però possiamo però cazzo è così bella di seguire noi ci vogliamo bene stiamo agli di qua mi continuo a laggare mi continuo a laggare no 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 dove vai deficiente e vabbè e vabbè ti dà adoro è buona fefe se te la fai quella per come ti stabilizzano va bene sì sì eh sì e poi muori aia 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 Si è faiuto Ma è più meno fatti né E' più meno fatti né Fatti 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 né Ok, qua la notte Ma c'è anche la Mary, che cazzo se ne hai racconto? C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è un poGive Grazie Ma è ricciotto come lo vedo stealth Me l'ha immaginato più divertente TV4C Nooo Matti ma è una merda Nooo Col barrio Eh Ma muore Muore Si 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 Nooo Stai in mare Non lo sai? Non ho capito che è successo Si Io ho ammazzato È morto uno zio di chi? Mi dispiace Mi munisco al dolore della famiglia Fit Erik Fa' un culo Fa' un culo mazzone Mi giudo penso sempre che sei giudito Sempre Ma è la quarta volta che mi piace per uccidere E poi mi suicido ho capito? Si si ma è quello che non capisco Fai un culo Fai bene così, continua Oh! Oh! Men! Perché? Perché devi farlo prima? Perfetto! Ma no! Ma quello lo ammazzavamo! Alla fai pure va! Ah! Ha avanzato ancora! Cattivo, figlio! Dai, perché devo dire lento? Ok! Fatemi che crevita! E' un gioco di resistenza! 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 8 ore di me, già basta Io vendo le scarpe, me sa No, se le scarpe... se vive qui Eh, che merdo Mi butto il velo, me sa Devono far più shatter della vista, non mi sa La, go, come dai, ne? Loro, come dai, ne? Questa è una gara sicuro No è una rotta di palletti Ci saremmo fatti una bella Ma sarebbe anche Oh mia Dai, ho portato un attorio Provo no Ma scaffare io Dai ragazzi tornovoti tutti Dai Allora lunici Ma io devo cambiare adesso il progetto, questi non fanno bene Stai amici! Stai amici! Stai amici! Lo spettro al bratt è totalmente in via! Sperna Luca! Sperna Nimm! Sperna Nimm! Torna Piddu! Oh! Passa per cento! Ma te l'ho rotto il cazzo con sti funghi che merda! Io l'ho rotto! Io l'ho rotto! Perchè? Perchè è un personaggio di merda! Che lo gioca! La gente è di merda! Luca! Ce l'hai anche tu Timo eh! Sì ma l'ho comprata costa 1.350 Ma chi l'ha mai usato per Dio? Timo è stato il mio ultimo cento androff! Bravi questo gioco! L'ultimo! No! 83 a 70! Ma che figli! Che figli! Significa che praticamente il team vostro ha fatto 37 kill! Esatto! Non capisco! Non so che signifia! Ma pare di una partire basca che pare! Polcadio! Nooo! Nooo! Mi sono toccato! E' entrato! E' bella! E' bella! Sì! Ciao! Ecco qui! Ora! Wow! Ok! Ok! Bo! 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 Vabbè! Scusa! Eh! Non lo faccio più! Ma che grosso! Perchè attacca tutti! Ora capite perchè tutti odiano Timo! Lo volevo! Lo volevo! Lo volevo fare zitto! Ma quello è divertente! Si dice qua dentro! Toh! Striccio! Facete il luogo! Ma no! Comunque su questa mappa diventa davvero impossibile perchè è troppo bilanciata tra le 5 con le 5 con le 5 con le 5! E' andato! 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 Cazzo! Cazzo! Ravora che attiva anche il Deathfire! Non ci arriviamo con la Q! Ho dovuto trovare mezzi alternative! Ho 28 gold! Oh no! Ahahahah! Stupendo! E' chiudono, e' chiudono! Arriva il cocco, morire a subito! Si, hai fatto perdere tempo! Beh perché praticamente sei monoscuro, e quindi non ho fatto uno di Blackguard, nida, io non ho fatto il meh! No, e' anche la Cura a polnacciare! Sì, vabbè è tutto il mio bonus, scusa! Tira la tuba e si è blindato! Nooo! Nooo! Io l'ho chiusa la build!